Inaugurato da Paolo Conte con 4.000 presenze, l'Umbria Jazz Fest vede tra i suoi protagonisti anche la formazione piacentina Sugar Pine Candyman che durante il suo tour estivo internazionale si è ritagliata un doppio appuntamento quotidiano nella manifestazione, in scena fino al 19 luglio. Particolarmente soddisfatto il gruppo trainato da Giorgia Chavatta che si esibisce alle 13 alle 17.30 ai Giardini Carducci di Perugia. Tutti i giorni nel festival, quindi per dieci giorni, abbiamo cominciato ieri e finiremo il 19 facendo due interventi al giorno ai Giardini Carducci qua a Perugia e suoneremo un concerto all'ora di pranzo e un'ora su sera. Il prossimo sarà a 5.30 e poi diciamo che stiamo preparando le cose sul palco in questo momento. Ecco, siete soddisfatti? Qual è la risposta del pubblico? Sì, sì, soddisfattissimi. C'è un pubblico meraviglioso e soprattutto poi fra la gente girano i nomi più grandi della musica italiana, internazionale del jazz, quindi è una soddisfazione enorme essere qua. Come sta andando la vostra estate più in generale? Siamo in pieno tour estivo, nel senso che è da fine giugno che facciamo un giro, sempre un giorno di tregua, abbiamo cominciato andando a Berlino, poi in Polonia, poi abbiamo girato tutto quanto all'Italia, adesso siamo qua, abbiamo altri appuntamenti poi in Francia, in giro per l'Italia. Faremo una piccola pausa verso per agosto, una settimana, e poi concluderemo fino agosto suonando il festival di ischia jazz e fino a metà settembre saremo in giro.